Ciao, oggi sfido le mie compagne a salire gli scalini in verticale e abbiamo due possibilità a testa. Ok, salire e scendere? Sì, ciao a tutti. Va bene, mi allontano un po'. Se l'allontano un po' mi impedisce. Sì. Brava. Allora, vediamo la prossima che ce la fa. Brava. E siete in due, che ce l'hanno fatta. Un po' veloce, ma ce l'hai fatta. Brava. Fede. Hai un altro tentativo. Brava. Eh, va bene. Debbie. Brava. Respira un attimo e un altro tentativo. Prova non riuscita. Meglio di prima, però, eh. Mickey. Ah, no, è già là. Primo tentativo. Andato. Secondo tentativo. No, direi di no. Leti. Piano. Fermati bene prima in verticale, poi una mano alla volta. Tieni sempre le spalle sopra le mani, Leti. No. Devi ancora allenarti un po'. Piano. Brava. Ok. Anche tu, più piano. Prima parti con la verticale ferma e le manine più vicino allo step. Ok. Va bene. Emma. Ok. Hai un altro tentativo. Dai, fai, fai, fai. Brave che l'avete presa. Ok. Allora, chi è che ce l'ha fatta? Kate. Ok. Altro tentativo. Vai. Andiamo avanti. Kate, di tu. Come andiamo avanti, adesso che siete tre a pari merito. Sì. Va bene. O se no, andiamo avanti. Se no andiamo avanti fin quando una sbaglia. Ma perché mi secondo me è tutto giusto, abbiamo preso la mano, quindi siamo... Cioè, è uguale. Secondo me. Quindi decidi tu. E se saliamo, ci diamo, ci diamo di buono. Adiamo. Va bene, sì. Ok. Quindi salvo, arrivo fino in cima, mezzo giro e torno indietro. Va bene. Vai. Ok. Ok, primo tentativo. Veramente difficile, eh, questo. Ok, Kate non è riuscita. No, primo tentativo, no? Ok. E già dice la fatta. Vediamo Emma. Dai, brava, Emma. Bravissima. Dai, brava, Emma. Eh, brava, Emma. Due a pari merito o andiamo avanti? Avanti. Avanti. E quindi? Kate? Sì, dai. Si muove. Cosa? Stai in su e poi senti a te. Va bene. Va bene. Va bene. Ma la mano alla volta, però. Ma no, è andato subito. Una mano alla volta. Una mano alla volta. Mano e ritorni, mano e ritorni. Non era salvo e scendo così, io subito scendo. Kate, devi decidere te. Salvo e scendo. Salvo e scendo, allora. Deve lanciare scendo. Sì. Con una mano alla volta, eh, Giadi, anche a scendere. Così, esatto. Sì. 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 Ok, bravissima. Giadi ce l'ha fatta. Emma. Hai un altro tentativo? Sì. Ok. Ah, vince Giadi. Ciao, Giadi. Ciao. Grazie.